Eccoci qua, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Serie Storiche. Stiamo rispettando anche la cadenza di sindati ogni due settimane, Giovanni. Oggi parliamo di un argomento che è al contempo un argomento di lungo periodo, lunghissimo periodo, ed è un argomento anche di strettissima attualità. Abbiamo deciso con Giovanni di affrontare il problema legato alla percezione che si ha delle politiche di intervento speciale sul Mezzogiorno, intanto da una prospettiva storica, partendo appunto da quando è cominciato questo dibattito, passando attraverso le spinte neoborboniche che oggi diventano particolarmente forti. Però andiamo naturalmente a guardare i risultati e effettivamente che cosa è successo, come si è declinato l'intervento speciale al Mezzogiorno, e vedremo anche se degli effetti sono stati prodotti o meno. In altre, non so se qui oppure in altre chiacchierate che faremo, poi affronteremo il problema legato alla lettura corretta dei dati, perché come sapete si va verso un finanziamento massiccio di alcune politiche e il Ministro Provenzano e il Governo in generale sembra orientato a destinare una gran parte degli investimenti previsti da Next Generation EU verso il Mezzogiorno, cosa sulla quale io non sono a prescindere contrario, ricordo sempre che ho origini puglio-campane, quindi sono del sud sicuramente, però la lettura critica degli interventi speciali ci dice che non sempre funzionano, qualche volta non funzionano, qualche altra volta sì naturalmente, ci dice che c'è un gap sicuramente infrastrutturale, che però le politiche speciali non sono sempre così fuoriere di buoni risultati. Giovanni, lascio la parola a te, così cominciamo dalla prospettiva storica che è la parte core di questa puntata. Perfetto, buongiorno a tutti, oggi tenterò di fare un brevissimo quadro della politica per il Mezzogiorno nel lungo periodo per arrivare poi appunto alla più stretta attualità. Dunque, primo punto, al momento dell'unità il Mezzogiorno era probabilmente più arretrato del centro-norde e soprattutto del triangolo industriale, cioè delle regioni Piemonte, Liguria e Lombardia, che erano a quel tempo e sono rimaste praticamente fino al secondo dopoguerra il centro dell'industria italiana. Ovviamente, tutti sapete, c'è stata anche una vecchia puntata di Liberi Oltre sul meridionalismo, che questo argomento che io quando ero dieci anni fa pensavo fosse una cosa assolutamente di esoterico per pochissime persone, è diventato un argomento politico perché si sostiene che in realtà il Mezzogiorno nel 1861 era molto più sviluppato o comunque prettanto sviluppato del centro-norde e che le politiche cattive dei Savoia lo hanno provocato il sottosviluppo. Non esiste alcuna prova di questa teoria neoborbonica fra gli addetti ai lavori, che non sono ovviamente i giornalisti, però c'è un dibattito abbastanza intenso sui livelli relativi di sviluppo, che non è purtroppo facilmente risolvibile perché i dati non sono abbastanza buoni. Quindi sostanzialmente noi non possiamo ora e non potremo mai dire esattamente nel 1861 il sud aveva un reddito pro capite, un GDP pro capite 5, 10 o 8% inferiore a quello del centro-nord, però ci sono alcune stime da 71, che ora Costantino gentilmente farà vedere, però il punto di fondo è che sicuramente il nord aveva potenzialità di sviluppo molto maggiori perché era più vicino all'Europa fisicamente, aveva un livello di alfabetizzazione basso ma superiore a quello del sud, il sud era bassissimo, il nord era solo basso e quindi alfabetizzazione di livello di capitale umano e aveva delle risorse energetiche, nella fattispecie l'acqua, che erano superiori. Cioè i fiumi del centro-nord permettevano di avere energia idrica, poi idroelettrica, i fiumi del sud no. Quindi diciamo questi dati, questo divario che si vede qui, che comincia nel 71, non so se sia corretto. Può darsi comunque, diciamo, qui fanno vedere che c'è già un divario abbastanza evidente. Nel 1861 l'idea era quella che il centro-sud, che il sud sostanzialmente aveva aveva dei grandi potenziali di Cavour, che non conosceva assolutamente il sud, lui non era mai stato a sud di Roma. Nella sua vita conosceva molto bene i grandi capitali europei, lui era una persona di grande respiro europeo, ma non conosceva assolutamente la situazione mediterranea. L'idea di Cavour, della destra storica, che era sostanzialmente dominante fino al 1866, era quella che il sud aveva ad enormi potenzialità che erano state impedite, che non era riuscita a realizzare per colpa dei Borboni, delle pessime politiche borboniche. Quindi bastava che si desse libertà di commercio e un po' di infrastrutture e il sud si sarebbe sviluppato, come dire, spontaneamente. Libertà di commercio e infrastrutture che furono date. Nel senso che, a differenza di quello che dicono i neoborbonici, nel 1861 in tutto il centro-sud c'erano 101 km di ferrovia, la ferrovia era, come dire, il centro della modernità, la forma di trasporto moderna di quel tempo. Nel 1881, dopo 20 anni di, come dire, al governo Savoia c'erano 2000, perché i Savoia avevano costruite le ferrovie, non tutte, per poi le costruire anche dopo, ma comunque le grandi ferrovie del sud le avevano costruite Savoia. Tanto per ricordare. Però questo non fu sufficiente. Nel senso che, diciamo, il rinascimento del sud non si manifestò. Il problema fu portato all'attenzione, diciamo, della pubblica opinione, da due toscani che furono Leopoldo Franchetti, due giovani nobili toscani, che erano Leopoldo Franchetti e poi Sidney Sonnino, il quale poi diventò primo ministro e aveva una lunga carriera politica, i quali fecero un famoso libro andando a girare il sud. E fecero una specie di indagine sociologica, cioè pur essendo ricchi di ottima famiglia, eccetera, invece di andare nei salotti meridionali andarono a vedere come vivevano le popolazioni meridionali e ovviamente scoprirono che erano poverissime. E a livelli di povertà che assolutamente nessuno di noi potrebbe immaginare, questo era anche nel nord, ma comunque stava parlando del sud, e quindi si iniziò a pensare che il sud, diciamo che la libertà di commercio e le infrastrutture non sarebbero state sufficienti per sviluppare il sud. E quindi iniziò un dibattito che però fu abbastanza sotto trascia per tutti gli anni 80 e 90. E sostanzialmente dell'Italia, dell'inizio degli anni 80 e 90, iniziò un periodo di sviluppo economico e sviluppo di industrializzazione. E un periodo di industrializzazione che ovviamente si concentrò esclusivamente nel centro-nord, esclusivamente nel triangolo industriale. E quindi questo provocò l'inizio del divario. Cioè, mentre il divario nel 1871 è relativamente piccolo, il divario nel 1800, qui ci sono stime per ragioni tecniche, le stime regionali del PIL sono solo per il 91, l'11 e il 1938 sostanzialmente. Qui poi ci sono un po' di... Comunque si vede chiaramente che il divario che era piccolo andò allargandosi in maniera considerevole. Praticamente qui c'è cento in questo grafico è l'Italia, c'è nord-est e centro più o meno sono rimaste sulla media e come si vede il nord-ovest ha aumentato molto il divario rispetto a Montessore. E questa è stata una caratteristica che è andata avanti praticamente fino al 1951. Cioè, il 51 è il massimo del divario che si è verificato. Alla fine degli anni 90, il 1890, il dibattito sul mezzogiorno, il problema del mezzogiorno è diventato politicamente, come dire, una patata bollette per tutta la serie di giorni politiche e per un fenomeno che invece è iniziato in quel periodo che è la grande immigrazione dal sud. Scusa un attimo, prima di arrivare alla grande immigrazione e quindi all'industrializzazione del nord, c'è una cosa che viene raccontata molto spesso dai cosiddetti neoborbonici e cioè il presunto, adesso chiedo a te se veramente è stato così, anche se mi fu raccontata una storia diversa, il presunto sacco delle banche del sud, in particolare il Banco di Sicilia. Cioè, i Savoia sostanzialmente avrebbero, dopo l'unità, avrebbero spogliato di averi, di beni, dai forzieri, dai cavò del Banco di Sicilia per portare questi soldi al nord. È una cosa che ogni tanto ricorre, mi sembra, francamente... Questa è una cosa, diciamo, dal punto di vista legislativo non ha nessun senso. Esatto, esatto. Diciamolo perché loro battono molto su questo, in vari... In questo, facciamo un inciso e poi andiamo avanti. Dunque, praticamente quello che successe è che i Savoia fecero una politica di unificazione abbastanza dura, legislativamente parlando. Cioè, nel senso che estesero quasi tutto le legislazioni del Piemontesi, cioè del Regno di Sardegna, per essere precisi, a tutta l'Italia. Praticamente in pochissimi mesi, in due o tre mesi da 61 in poi. L'unica eccessione fu le banche. Cioè, il Banco di Sicilia e il Banco di Napoli erano le due banche di emissioni del Regno delle Due Sicilie, che erano due Sicilie con due banche di emissioni, e sostanzialmente furono tutte le banche di emissioni, che erano quelle due meridionali, due Toscane, in Toscana c'erano due banche di emissioni, e la Banca Nazionale del Regno d'Italia, banca nazionale che era quella piemontese, piemontese sostanzialmente, mantennero tutti i diritti di emissioni. Cioè, in Italia rimasero cinque, poi sarebbero diventate sei banche di emissioni nel 71 con l'arrivo della Banca Romana, che era la banca di emissioni dello Stato Pontificio, che mantenero tutti i diritti. E quindi mantenendo il proprio stock, sostanzialmente, di metalli, di oro, con cui avevano diritto di emettere moneta, continuarono a emettere moneta, sostanzialmente, e rimasero praticamente indipendenti fino al 1893. Perché cosa successe? Successe che, ovviamente questo lo faccio molto semplice, ma ci fu una violentissima polemica, perché alcune parti del finanze piemontese e lombarda volevano che la banca, ci fosse un'unica banca di emissioni in tutta Italia, con un modello inglese, tedesco, francese e così via. E quindi questa sarebbe stata la banca nazionale, che ovviamente era la più grossa e rappresentava le regioni economicamente più ricche. Solo che questo fu impedito da una, come dire, vigorosa reazione da parte delle elite locali. Perché le elite locali, perché le banche di emissioni, scusate se faccio il professore, ma è necessario, non erano puramente banche di emissioni, ma anche le banche di credito. Cioè, fino al 1900, non mi ricordo quando sostanzialmente, facevano sia banche di credito, sia banche di emissioni. E ovviamente erano al top del credito, cioè avevano i migliori clienti, però naturalmente i migliori clienti avevano anche dei tassi a favore rispetto ad altre banche locali. Quindi, per le elite locali era una fonte di potere, di prestigio e di prestiti tenersi la banca di emissioni. E quindi, siccome ovviamente le elite locali del mezzogiorno contavano, perché l'Italia nel 1861 aveva un suffragio estremamente ristretto, però comunque è uguale in tutta Italia, e quindi le elite napoletane contavano. E quindi mantennero il diritto di emissioni. L'unica cosa che ottennero i piemontesi fu quello di estendere, di poter fare filiali della banca nazionale, chiamata banca nazionale nel Regno d'Italia, non del Regno d'Italia, proprio per sottolineare il fatto che non era una, ma non la più importante, in tutti, anche nelle regioni meridionali. Quindi ci fu un dualismo, diciamo un dualismo nelle regioni del mezzogiorno continentale c'erano sia, a Chieti posso dire, sia la filiale della banca nazionale che la filiale del Banco di Sicilia. Quindi è possibile che la filiale del Banco nazionale, avendo probabilmente una reputazione migliore, potesse attrarre depositi o affari migliori, di quella del Banco di Napoli che invece era la più importante a Chieti, prima. Però questa è una cosa che, diciamo, è una concorrenza tra banche. Poi successe, e qui finiscono molto semplicemente, che la banca romana sostanzialmente truffò. Cioè, il presidente della banca romana, avendo possibilità di emettere X milioni, devise il doppio. Cioè, fece dei biglietti con doppi, con lo stesso numero di serie. È magnifica questa cosa. È magnifica questa cosa. E fu per finanziare la speculazione di Lizia a Roma e a Napoli, che c'è un grande boom di Lizia. Quindi, successe a un certo punto, quando la speculazione di Lizia crollò, tutti i boom di Lizia crollano e alcune banche crollarono, le banche che avevano direttamente finanziato, la banca romana si trovò in difficoltà terribili e quindi si fece una riforma bancaria che unificò. Crollarono le due più grosse banche del paese, come se succedesse un crollo della banca intesa, la banca di Unicredit. Stiamo parlando di, come dire, di un crollo epocale. Quindi fecero la riforma, crearono la banca d'Italia, unificando banca romana, le due banche toscate e la banca nazionale. Le due banche meridionali rimasero formalmente indipendenti, col diritto di emissione, fino al 1926. Quindi stiamo parlando, diciamo, praticamente di 70 anni dopo l'Unicredit. Perfetto. E così abbiamo anche smarcato, abbiamo anche... Ovviamente queste banche, a quel punto la banca d'Italia comandava, sostanzialmente, dal punto di vista di emissione, però rimane con l'unicredit. Abbiamo smontato questo fatto. Abbiamo smontato questo fatto. Torniamo invece allo sviluppo che c'è stato poi, dopo... Perfetto. A questo punto che cosa successe? Successe che l'immigrazione riportò in maniera clamorosa il problema del Sud all'attenzione. Ci fu la famosa dichiarazione di un sindaco, il paesino Calabro, quando il presidente del Consiglio di Zanardelli arrivò a far visita al paesetto Calabro nel 1900, credo, che lo salutò a nome dei 8.000 abitanti del paesino di XY, di cui praticamente... 4.000 sono in America e 4.000 sono qui. Quindi mi è detto che fu una cosa che provocò. E quindi questo successe che alla fine fu fatta la prima legge di aiuto per il Sud, che fu fatta... sostanzialmente fu... come dire... concepita da Nitti, che era un grande politico calabro, calabrese, personalità di grandissimo livello intellettuale, spessore intellettuale, confronto ai politici italiani, sono praticamente... vabbè, insomma, meglio non insultarli troppo... il quale concepì sostanzialmente una politica di sviluppo industriale per Napoli. Cioè la linea di Nitti era quella di... dobbiamo sostanzialmente puntare su due cose. Energia a buon mercato. Infra strutture c'erano già... le ferrovie c'erano già acqua e punto. Energia a buon mercato e quindi utilizziamo tutte le possibilità idroelettriche. Nel momento la tecnologia... l'idroelettricità si stava sviluppando e nel nord stavano costruendo centrali a Raffica. E poi diamo sussidi per stabilire grandi stabilimenti industriali a Napoli. La legge speciale per Napoli fu quella su cui funzioni da Bagnoli, che forse tutti ricordi, che era un grande stabilimento stiderurgico, il fatto nel 1905-1906, ecco quel tempo era presente fuori Napoli, poi è diventato Napoli centro, vabbè, poi l'hanno inglobata dallo sviluppo edilizio. E quindi questa fu una prima legge che era sostanzialmente perché Napoli aveva un problema politico, un peso politico molto sicuro del paesetto Calabro di cui si parlava prima, del paesetto Calabro che se ne andasse. E quindi ci fu questa legge, poi c'è stata una serie di leggi più o meno su quella linea. Comunque il punto di fondo era quello che bisognava puntare sul campo industriale e sull'energia. Fu fatta un'altra legge di grande importanza, che non è esattamente di sviluppo meridionale per il mezzogiorno, ma avrebbe un'importanza essenziale per il mezzogiorno, che fu la legge da neocredare per l'istruzione primaria, che bisogna ricordare perché fondamentalmente l'istruzione primaria era un problema ovviamente di creazione di capitale umano, come si diceva prima, il capitale umano nel 1861 era un grossissimo problema per il mezzogiorno e senza capitale umano anche a quel tempo non è che si andasse molto lontano e fondamentalmente con la legge, con il sistema pre 1912, stiamo parlando del 12, le scuole primarie avevano dovuto essere finanziate dai comuni. Cioè l'istruzione era obbligatoria, però i soldi ci rimettevano i comuni. Solo per le scuole secondarie, ovviamente università, ci pagava lo Stato. Questo faceva sì che molti comuni meridionali, un po' per mancanza di soldi, un po' perché le classi dirigenti locali non avevano granché interesse a dare istruzione ai figli dei contadini, avevano sotto investito in istruzione. La legge da neocredaro, che fu nel 1912, sostanzialmente disse che lo Stato avrebbe dovuto finanziare l'istruzione primaria. E quindi iniziò un grande aumento, un grande ondato di costruzione di scuole nel sud, il pagamento alto e stabilì anche uno stipendio minimo per i maestri uguali in tutta Italia. Mentre invece prima lo stipendio era stabilito ai singoli comuni e quindi magari trovavano maestri, pagavano poco e trovavano persone, diciamo, non grandissimo livello didattico, mettiamo in questi tempi. E quindi questo fu una grande, una cosa che forse per tutto il periodo, poi ovviamente fu la guerra, la cosa, la costruzione di scuole riprese dopo la guerra e diciamo sostanzialmente il problema dell'analfabetismo per i giovani fu risolto. Naturalmente rimasero un sacco di analfabeti più anziani che non hanno potuto andare a scuola. Tra l'altro, e qui una piccola curiosità storica, una fortissima spinta a questo, ma di breve periodo, fu determinata ai Stati Uniti. Perché gli Stati Uniti nel nel 1919 approvarono una legge per cui si poteva immigrare solo se alfabeti. Cioè ci sarebbe stato un test di alfabetismo all'arrivo. E quindi questo ovviamente provocò grossi problemi nel sud, in cui molti dei potenziali immigrati erano ancora analfabeti. Solo che, e questo diede un grande... Però fu un incentivo a affrontare con più vigore il problema... Esatto, il problema è che purtroppo fu un incentivo di brevissimo periodo. Certo. Perché nel 1924 fu poi bloccata totalmente l'immigrazione e quindi... Però comunque diciamo questa legge da neocredaro ha avuto un impatto molto importante. Comunque diciamo, per tornare al punto della storia, fondamentalmente arriva la guerra, arriva il fascismo... Giovanni però, adesso rimetto il grafico. Questo però non arrestò l'ampliamento del divario che c'era in termini di pil pro capite fra nord e sud. No, perché, come stavo dicendo, il problema è che una volta che partiva il sviluppo del nord, il sviluppo del nord si autoalimentava, mentre nel sud, diciamo, l'immigrazione aumentò un po' i salari, aumentò i redditi, però comunque non era comparabile con... Infatti, con il sviluppo del nord. E poi stavo dicendo, durante il periodo del fascismo non fu fatto nulla. Cioè, nel senso sostanzialmente il fascismo era un movimento nato sostanzialmente nel nord, in cui i meridionali avevano un ruolo abbastanza minore, e durante il fascismo non fu fatta nessuna politica di sviluppo, specifica per il mezzogiorno. Furono fatte una serie di politiche di sviluppo di poli industriali, però parecchi dei quali erano nel nord. Cioè, Massa Carrara, Ferrara e così via. Per cui, diciamo, non erano particolarmente. E poi, naturalmente, e quindi, diciamo, poi ci fu la grande crisi, insomma, comunque il Comitale non si sviluppò molto, però comunque il sviluppo industriale fu tendenzialmente settentrano. Più, dicendo il triangolo industriale, iniziò qualche piccola propagine, anche legata a questa politica di sviluppo industriale, in alcune regioni del centro nord, cioè l'Emilia, il Veneto, c'erano alcune zone della Toscana, però comunque è abbastanza piccola, roba abbastanza piccola. Ovviamente, se arriviamo a Seconda Guerra Mondiale, Italia è democratica e quindi si pone il problema del sud. E quindi mi hanno fatto due cose. Una cosa è la riforma agraria. La riforma agraria che non ha, di nuovo, non è esattamente una politica per il mezzogiorno, però è una politica che va a prendere il grosso del mezzogiorno, perché sostanzialmente la riforma agraria è la divisione dei latifondi. Ora, i latifondi che erano prevalentemente meridionali, non tutti, c'erano anche alcuni latifondi in Lazio, in Toscana e così via. E sostanzialmente il proprio latifondo è una cosa un po' complicata dal punto di vista storiografico, perché, diciamo, è un adattamento alla situazione ideologica e alla dotazione di fattori, un adattamento razionale alla situazione agricola del mezzogiorno. Cioè, il latifondo, data la situazione iniziale del mezzogiorno nel lungo periodo, il latifondo è la forma agricola più efficiente. Perché? Per avere una forma, perché la piccola proprietà non avrebbe potuto avere dimensioni efficienti, data il tipo di specializzazione che era possibile, che era quella, la cultura molto estensiva, tranne piccole aree costiere. Per avere una specializzazione, una agricoltura più intensiva e quindi rendere possibile il piccola proprietà contadina, sempre, se fosse possibile, necessari grandi investimenti in un po' di infrastrutture, ma soprattutto in irrigazione. Perché se tu non portavi l'acqua, tu le colture specializzate non le potevi fare. Potevi fare solo grano e pecore, tanto per metterla sul brutale. E quindi fu fatta la riforma agraria e iniziò un processo. La riforma agraria, quindi la divisione del grande fondamento in piccole, non tanto piccole, ma comunque abbastanza piccole aziende contadine, a cui poi fu dato terra, aiuto finanziario e anche acqua. E qui arriviamo alla cassa del mezzogiorno. Diciamo, la cassa del mezzogiorno, quindi la forma agraria fu del 51. La cassa del mezzogiorno si iniziò a parlare subito dopo la liberazione, fu fatta un menichella, saraceno, non fece tutta una serie di progetti. E comunque mi pare fu fatta, oddio, 51, ma non sono sicurissima ad avere. A proposito, se qualcuno, volevo sognare un libro, se uno vuole far... Sì, poi dopo lo mettiamo in descrizione, sì. Sì, si chiama... Un libro di Emanuele Felice, che poi è diventato famoso per tutte altre ragioni politiche, ma a un certo punto ha iniziato come storico economico, anche di buon livello, e ha scritto un libro che si chiama Di vari regionali e sviluppo economico in Italia, Bulino del 2007, in cui racconta in maniera piana ma chiara questi fatti. E quindi, la cassa per il mezzogiorno, in cui, diciamo, sostanzialmente, a differenza delle vecchie cose della vecchia versione politica nittiana, era sostanzialmente quella di puntare... fu approvata nel 1950, controllata. Era quella, sostanzialmente, di una cosa per tutto il mezzogiorno, definito comprendendo l'Abruzzo, e per cui l'idea era quella di fornire al mezzogiorno, di cui sostanzialmente, in quel momento, a differenza dei nitti, si pensava prevalentemente a una vocazione agricola o piccola industria, di fornire irrigazione, di fornire infrastrutture, case, scuole, ospedali, strade. A quel momento era un momento in cui iniziava, si poteva intravedere la monitorizzazione di massa e quindi, a questo punto, non bastavano più le ferrovie, ma iniziavano anche a fare le strade. Era un momento in cui si iniziava la politica di costruzione di autostrade. a modo costruzione del sole arrivava a Napoli, ma comunque si prevedeva di fare. Quindi l'idea della cassa del mezzogiorno era quella di avere una politica uniforme per tutto il mezzogiorno puntata sulle infrastrutture. Le politiche pre-fasciste avevano dato dei risultati più o meno... naturalmente bisogna sempre vedere bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, nel senso che bicchiere mezzo pieno alcuni di tutta l'idea sono stati ottenuti. I bagnoli c'era stata, avevano fatto un po' di dighe, costruzione per il basilicato, un po' di energia e così via. C'era stato anche un sacco di sprechi, comunque non avevano ottenuto granché. Come si vede nella slide, il punto maggiore di divario è il 1951, perché a quel punto il nord ormai si era industrializzato e il sud, senza la valvola di migrazione, era rimasto notevolmente povero. Quindi la cassa mezzogiorno ha avuto questa struttura e a quanto pare ha avuto sostanzialmente dei risultati non del tutto... C'è una tabella che tu mi hai inandato, che è quella dell'HD. Se ritieni la cominciamo a farla vedere perché si vede anche attraverso i decenni un'evoluzione che c'è stata in quell'indice, che non è chiaramente un indice di ricchezza, però comunque ci racconta qualche cosa. Il tema oggi è sul reddito pro capite che per il sud, in particolare per certe aree, è ancora il 54-55% della parte più ricca italiana. Però questo indice ci racconta una storia leggermente diversa a far vedere come, tutto sommato, qualche risultato ci sia stato. Cioè non è che lo sud è rimasto completamente fermo. No, esatto. E lei ora, mentre appunto... Devo un attimo però spiegare che cosa è l'HDI. Ah sì, sì, sì. Tutti lo sanno perché qui... Dunque, l'HDI sostanzialmente è un indice che è stato elaborato, diciamo, da studenti indipendenti e poi è diventato un indice ufficiale delle Nazioni Unite. che sostanzialmente è un indice di sviluppo, Human Development Index, di sviluppo umano, in cui sostanzialmente ci sono tre componenti. Uno è il reddito pro capite, due è l'istruzione che è misurata o dal tasso di alfabetizzazione o dal... che è a sua volta una media, scusate, il tasso di alfabetizzazione e del percentuale di ragazzi che va a scuola. Intanto faccio vedere l'indicatore sociale di istruzione, dove c'è una convergenza invece. Cioè, abbastanza... anche tutto sommato abbastanza rapida. Eh, effatti, perché quello... appunto, finiamo... E la terza cosa è la mortalità infantile. Quindi questo è un indice che tiene conto sia della ricchezza che anche, diciamo, di due dimensioni di sviluppo sociale, che livello di istruzione e mortalità infantile. E c'è una forte convergenza del sud verso il nord nell'istruzione proprio... Questa è l'istruzione primaria, ovviamente, proprio per Adaneo Credaro. Certo. Nel senso che, ovviamente, il livello di istruzione... Questa è la percentuale di alfabeti o la percentuale di ragazzi che va a scuola. Ovviamente questa qui è al massimo 100. Non è che si può andare a più del 100% di alfabeti. E quindi il nord avrà raggiunto questi livelli nel secondo... Nel primo periodo dopo guerra, 100% di enrollment e 80-90% di alfabeti. Il sud può convergere rapidamente, può convergere. E lo stesso per l'aspettativa di vita. Cioè è legata anche ai progressi della sanità. Ma insomma, comunque, diciamo, esistono una... Cioè, dal punto di vista del sviluppo umano, da Adaneo Credaro e il minimo di aumenti, di miglioramento delle condizioni di vita. Per esempio, moltissima mortalità infantile dipende, in ambiente urbano, dalla costruzione di acquedotti. E quindi, di possibilità di acqua corrente, fogne e così via. E quindi tutte queste cose hanno migliorato relativamente alla situazione del sud. L'indice di sviluppo umano, fondamentalmente, è un indice il quale ha un massimo di 1 che è il massimo teorico assoluto. Come voi vedete, l'Italia è a partita bassissima. Cioè, questi sono... Tanto per darvi un'idea, questi sono i livelli inferiori alla Nigeria attuale. 0,22 nel 1871 è inferiore alla Nigeria attuale. Per dire... Perché, ovviamente, la Nigeria attuale ha un reddito più o meno comparabile a quello italiano. Però, grazie al progresso della medicina e anche agli investimenti di istruzione, a livello di istruzione di medicina, di istruzione molto superiore, di mortalità infantile, molto inferiore a quello italiano del 1871. Come voi vedete, tutta l'Italia ha migliorato. Nel 2007 è arrivata a 0,9. Beh, tenete presente che i massimi su Nuova Zelanda sono su 0,97 e 0,98. La Nigeria è ancora sottosviluppata rispetto ai top top. Però, comunque... E lo sappiamo. Aspetta, 71 è... E come vedete, anche il sud comunque ha raggiunto dei livelli abbastanza buoni. E anche nel 1951 il gap fra Italia e Mezzogiorno non era così ampio. Proprio perché, mentre la componente GDP, il PIL, il divario era molto ampio ancora, anzi era al massimo, il divario rispetto per istruzione e rispetto alla vita si era fortemente ridotto. Per processi, come dire, esogeni, non legati alla politica per il Mezzogiorno. Perché la politica per il Mezzogiorno puntava all'aumento del reddito, non necessariamente all'aumento dell'istruzione o all'aumento dell'aspettativa di vita. Non era quello il punto fondamentale della politica. Qui, diciamo, la Cassa del Mezzogiorno investì un sacco in infrastrutture, con dei risultati decenti. Però, i risultati decenti in termini, diciamo, di creazione di infrastrutture. I risultati decenti, però, non erano comparabili alle aspettative in termini di reddito. Perché, comunque, i livelli di reddito del sud erano nettamente inferiori a quelli del nord. Quindi, inizio un lento processo di cambiamento della Cassa del Mezzogiorno. Ritornando verso le vecchie impostazioni nittiane. Cioè, non solamente, diciamo, la politica generale, non solamente infrastrutture, ma anche finanziamento di attività produttive. Invece di dire, vabbè, costruiamo, ti costruiamo la strada, e poi voi imprenditori ve la giocata da voi. Parentesi. Ricordo che qui è un periodo in cui non c'erano ancora queste gabbie salariali. Le gabbie salariali erano la possibilità di avere salari diversi fra sud e nord, che sarebbero stati aboliti nel 1968. Pare, controllare, ma comunque dopo. Comunque negli anni, insomma, dei... Sì, del 68-69, o del 70. Gli anni delle proteste, sì, certo. Esatto. Il punto di fondo è che, quindi, l'idea della Cassa del Mezzogiorno era abbiamo le strade, abbiamo la mano d'opera, arriverà l'industria. Questo non funzionò e quindi, benissimo, insieme a dare un po' di soldi agli industriali. E quindi iniziò a esserci, primo, prestiti agevolati. E quindi, diciamo, diamo soldi a più soldi. Poi, secondo, questo è il 57, secondo, fu deciso che le partecipazioni statali, cioè l'Iri, avrebbe dovuto dare perlomeno il 60% degli investimenti al Mezzogiorno. Quindi, sostanzialmente, costruire l'industria nel Mezzogiorno. Qui ci fu l'elemento, una cosa, che è l'impianto di Taranto. Certo. Taranto fu la svolta. Perché l'Italia aveva un grande boom economico, come tutti sapete, si chiama miracolo economico, e quindi la produzione interna appariva non su... di acciaio da minerale, non appariva non sufficiente in prospettiva futura alle esigenze. Stiamo parlando... l'acciaio si divide in prodotti lunghi, che sono il tondino che già lo facevano sostanzialmente i bresciani, per affari loro, e la miere che la facevano a Cornigliano, Piombino e parte a Bagnoli. si disse, non è sufficiente la produzione di la miere, che poi servivano per gli elettrodomesti, servivano per l'industria. Cornigliano è a Genova, Bagnoli è a Napoli, Piombino è a Piombino. Non sono sufficienti, ci vuole un quarto centro siderurgico, specializzato in la miere. E qui ci fu un violentissimo scontro all'interno dell'Ital Cedar, che era la società che... dell'IRI, che faceva l'acciaio al ciclo integrale, cioè partendo dal minerale, su dove dovesse essere messo questo stabilimento. E il... i manager volevano metterlo nel nord, perché tutta la domanda era nel nord, i politici imposero invece la localizzazione a Taranto, che era una localizzazione, poi ovviamente tutti sanno che era un'impianta enorme. La localizzazione a Taranto era dal punto di vista economico non particolarmente vantaggiosa, perché tanto minerale e carboidro arrivavano per mare. E quindi qualsiasi posto sulle coste italiane sarebbe andato bene. Il problema è che ci mettevi, Tarciale è un prodotto abbastanza a basso valore rispetto ai costi di trasporto, ci mettevi i costi di trasporto da Taranto al nord. Certo. Tra l'altro con un'aerea teviaria che fino a pochi decenni fa era estremamente scarsa. Sì, esatto. Comunque poi... E quindi poi avrebbero fatto l'impianto di Melfi, ma Melfi è molto più tardi. Però il grosso della domanda al massimo doveva arrivare a Cassino per trovare una fabbrica di automobili che poteva comparsi le mie aree di Taranto. Ci mettevi 600 chilometri. E questo scontro fu vinto ovviamente dai politici. Il manager che si chiama Gianluco Osti fu buttato fuori e fu deciso di fare il ministero delle partecipazioni statali. Cioè, il problema è che mentre prima Liri era semi-autonoma, quindi fra virgolette funzionava, dal 58 divenne, come dire, subordinata a un ministero. Questo fra virgolette funzionava diventerà un meme, te lo dico. Se lo rivendiamo. No, quando è detto fra virgolette funzionava questa qui, adesso diventa uno slogan. Va bene. Comunque, insomma. E quindi fu fatto il mio risultato in cui sostanzialmente i politici iniziarono a mettere il loro zampone. E ovviamente quando si mettono i politici inizia, non sto a dirlo a voi, ma lo sapete bellissimo, un programma di clientelismo. E quindi da quel momento in poi iniziò a una seconda fase della politica, che praticamente durò dal 50, fino agli anni 50, di 1858, a 72, 73. E su cui magari parliamo un attimo, poi finiamo qui e poi la prossima volta parleremo di cose più. Perché sostanzialmente l'idea era che bisognava industrializzare il sud. E quindi o le parti si davano soldi a schiaffogli dovevano praticamente mettere tutto al sud. E si davano soldi a imprenditori privati i quali avrebbero dovuto investire in industrie in qualsiasi cosa. Però sostanzialmente siccome le competenze non erano granché sviluppate, siccome il capitale è al sud a questo punto costava pochissimo, si finì per investire probabilmente in industria pesante. Quindi si l'erogia, si è parlato di bagnoli e taranto e la grande come dire bonanza fu l'industria chimica. Cioè inizia, siccome l'Italia essendo in sviluppo aveva bisogno di prodotti chimici e iniziarono a e in quel tempo c'era un cambiamento, un grande cambiamento tecnico dalla chimica del carbone alla chimica del petrolio. Cioè sostanzialmente mentre prima i prodotti chimici vengono fatti partendo da materia prima e poi con una serie di reazioni. All'inizio, prima degli anni 50, la materia prima era il carbone. poi si sviluppò ovviamente nel mondo la tecnologia di cracking del petrolio e produzione di etilene da cui poi si otteneva tutta una serie di prodotti secondari. Quindi che cosa successe? Che tutti coloro i quali volevano sfruttare una cioè volevano entrare in questo nuovo business cioè costruire un grande stabilimento con enormi economie di scala cioè dovevano essere cose enormi per essere lo fecero nel sud. Quindi si iniziarono Ottana in Sardegna Brindisi le Montecatini e vari altri stabilimenti di cui non mi ricordo e quindi il sud iniziò a svilupparsi industrialmente un po' in alcune aree come come dire propagine del centro nord a questo punto l'industrializzazione stiamo parlando nei 60 70 si stavano estendendo dal centro industriale a Veneto Emilia Romagna Toscana Lazio Abruzzi cioè per una cosa locale lentamente come un blob che iniziavano a stabilire e quindi diciamo nel Lazio fece tra sé stabilimenti di farmaceutici e così via invece nel sud profondo furono costruiti grandi stabilimenti raffinerie cioè Gela dell'Eni e di quel Priolo è di quel periodo Gela è di quel periodo in cui che furono però cosiddette catenari nel deserto perché sostanzialmente il problema è quello scusate ti preoccupa scusa devo mandare un messaggio allora a questo punto catenari deserti in cui praticamente erano enormi stabilimenti industriali con migliaia di dipendenti i quali crearono sviluppo locale però non crearono nessun indotto perché per esempio cracking dell'etilene a Brindisi come funzionava arrivava il petrolio da qualche parte c'era lo stabilimento in cui venivano prodotti l'etilene e altri sottoprodotti i quali poi venivano mandati all'industria del nord o del centro che dovevano utilizzarli e questo fu un sistema che non funzionò assolutamente bene perché l'economia locale aveva sì ovviamente i posti di lavoro dei dipendenti ovviamente c'era un po' più di reddito e quindi questi riuscivano un po' in qualche forma a far vivere bar ristoranti però diciamo non ci fu sviluppo industriale autonomo e quindi questa è la fase che finì ai 70 tra l'altro c'è una bellissima storia della uno di questi era la cosiddetta Sir di Rovelli che era una ditta privata il quale la quale produceva non mi ricordo che cosa ma insomma sembra di chimica era siccome all'inizio le leggi erano medialisti che davano prestiti più agevolate delle piccole imprese rispetto cioè le condizioni rispetto alle grandi imprese questo Rovelli divise uno stabilimento industriale per farne due piccoli 50 piccole imprese formalmente cioè una che faceva il pezzo X l'altra era il pezzo Y quindi riuscì a ottenere enormi quantità di finanziamenti però senza e quindi questo fu fondamentalmente una una linea che andò avanti con grandi risorse fino agli anni 70 inizio anni 80 e sostanzialmente con pochissimi risultati perché ci fu un aumento dell'occupazione infatti ci fu una convergenza del PIL se rifai vedere la cosa però diciamo fu era uno sviluppo malato se farvi vedere la slide gentilmente ci fu uno sviluppo malato per cui diciamo finché c'erano finanziamenti statali queste imprese funzionavano poi quando ci fu infatti come voi vedete da 51 a 71 ci fu una notevole convergenza perché il Sud sviluppò in parte con questo in parte con una grande espansione dell'impiego pubblico c'è un aumento dell'industrializzazione ma c'è un enorme aumento dell'impiego pubblico e se tu raddoppi l'impiego pubblico il PIL aumenta perché il GDP l'è fatto dagli stipendi dei stipendi pubblici quindi fu una grande espansione del pubblico però questo sviluppo industriale rimase sostanzialmente monco perché si fermò lì dove era e ovviamente non sto a dire potete immaginarmi ci sono tutta una serie di sospetti di clientelismo perché poi in realtà sicuramente ci fu una notevole competizione fra amministratori locali nel tentativo di ottenere la localizzazione di questi stabilimenti perché ovviamente i prestiti agevolati potevano andare a Gioia Tauro dove provavano a fare un stabilimento cirurgico fallendo piuttosto che in un altro posto a Vivolenzia e quindi i politici locali usavano tutte le loro armi per ottenere dall'Iri o dalla Geppi o dall'Egam questi stabilimenti privati questi stabilimenti ovviamente ci sono forti sospetti di clientelismo sia nella localizzazione però non ci furono mai a quel tempo la magistratura non era molto l'epoca di Tangentopoli non era ancora cominciata no non era siamo anni 70 e quindi diciamo ci furono tutti dicevano però non esistono prove giudiziarie su questo e quindi e poi sostanzialmente questa politica fallì nel senso che poi le regioni arrivarono anche le regioni e quindi introdussero un ulteriore elemento di confusione nella faccenda le regioni fatti nel 71 e quindi iniziarono a chiedere competenze e quindi naturalmente questo quindi la questa politica delle grandi industrie si continuò diciamo per inerzia fin negli anni 80 cioè la cassa del bel giorno fu prorogata aveva dovuto scadere nell'80 fu prorogata fino all'84 sostituita dall'agenzia per il sud che praticamente era la stessa cosa stessa cosa invece di lo svitare se ricordo bene ci fu anche un referendum amborgativo in seguito al quale fu cambiata proprio la denominazione in modo che sostanzialmente restasse la stessa cosa però sotto un profilo giudinico diverso sì questo fu non so per la cassa del mezzogiorno fu per il ministero dell'agricoltura no no ma mi pare anche per la cassa per il mezzogiorno questo non mi ricordo il ministero dell'agricoltura è famoso quello è famosissimo clamoroso politica agricola quindi diciamo questa politica andò praticamente per inerzia fino alla fine fino al 1909 per tutti gli anni 80 però ormai si era capito che l'idea delle cassa non funzionava e Giovanni adesso invece andiamo un attimo nell'attualità prima di chiudere invece sembra che la politica attuale voglia tornare alla vecchia Iri di fatto sta costituendo e ha già costituito una nuova versione dell'Iri mi viene da dire per fare una sintesi che noi tranne che per il periodo fascista e per il periodo fascista abbiamo avuto sostanzialmente 150 anni di legislazione speciale per il mezzogiorno e allora se l'obiettivo sì 150 diciamo 100 100 da 1904 al 2020 quindi sono 116 è solo un precisino 100 giustamente giustamente e se se uno degli obiettivi il principale probabilmente almeno quello che viene raccontato è quello di ridurre il gap che c'è fra i redditi nord verso sud questo obiettivo è stato si può dire abbastanza liberamente è stato non è stato colto mi pare di capire diciamo che allora sì c'è stata una serie di politiche praticamente faccio un piccolo di atticipazione magari per tre punti primo punto le politiche sono cambiate molto prima fase nittiana fase casa del mezzogiorno fase della grande industria poi sono state altre fasi su cui dal 92 in poi cioè progetti territoriali eccetera ti conosco meno perché non è tanto storia ma comunque sono arrivati anche i fondi europei con i fondi di coesione con i fondi di sviluppo regionale i PON area 1 area 2 eccetera eccetera quindi è arrivato tanto Roma che diciamo appunto nel lungo periodo non ha funzionato nella misura in cui il divario che dal 1911 ad oggi più o meno c'è stato questo boom e poi è ritornato a quello che era nel 1911 occhio però non mi ricordo beh certo naturalmente uno potrebbe dire che se non ci fosse stata politica il divario invece di essere quello del 1911 sarebbe stato quello del 1951 perché contro il factual non ci sa mai che cosa però certo sicuramente non ha funzionato il problema che però ovviamente non si può sapere è se una politica diversa abbia funzionato ci manca il controfattuale è chiaro è chiaro che manca il controfattuale perché il problema è che fondamentalmente non sia io ho ancora capito nel senso è troppo difficile valutare quale potrebbe essere una politica che avrebbe funzionato continuare la politica della cassa del mezzogiorno non abolire gabbie salariali non abolire gabbie salariali cioè mantenere divari non si sa comunque la politica è stata fatta al massimo ha fatto due cose primo ha permesso un aumento del reddito perché qui stiamo parlando di vari però è chiaro certo però naturalmente se noi guardiamo e quindi c'era quell'altra slide dell'altra preparazione che potremmo far vedere e poi così se noi guardiamo a un certo punto una slide se noi guardiamo come è andato il reddito non nel divario ma in termini assoluti aspetta che lo cerco a un certo punto avevo fatto un confronto tra mezzogiorno Italia e Spagna e altri paesi mediterranei ecco qui ecco quella lì perfetto cioè se noi guardiamo fondamentalmente i livelli di reddito noi vediamo come non è che il mezzogiorno sia andato ora mi ricordo esattamente è la linea azzurra quella del mezzogiorno è la linea azzurra perché l'ho fatta qualche tempo fa in realtà fino al 1980 sostanzialmente non andava così male se noi lo confrontiamo con i paesi altri paesi mediterranei cioè costanzialmente c'è stata una crescita e comunque i livelli di reddito del mezzogiorno sono infinitamente superiori a quelli che erano nella storia poi c'è stato un blocco infatti vedete che però è un blocco che non è solamente del mezzogiorno ma poi si è stessa tutta l'Italia certo cioè non è che sia cioè il divario è un discorso relativo in termini assoluti fra sviluppo economico politica mezzogiorno politica di aumento dell'impiego statale e così via c'è stato un notevole sviluppo nel sud in termini assoluti certo con una politica migliore forse sarebbe stato possibile non si sa e tra l'altro mi piace ricordare anche che molto spesso durante i nostri video facciamo visto che c'è tantissima retorica sui poveri eccetera eccetera ora per carità ci sono però dobbiamo sempre distinguere l'indice di povertà relativa dall'indice di povertà assoluta se possiamo parlare di indici di povertà relativa ma la povertà assoluta è un'altra cosa certo infatti il numero di poveri è molto caro e per tornare un intimo momento dell'attualità quello che si può vedere è il ritorno sostanzialmente alla politica degli anni 70 80 cioè alla politica del prendiamo delle cattedrali delle cattedrali sostanzialmente certo magari ora vogliono salvare qualche cattedrale che ancora esiste e magari vorranno costruire le altre però esattamente la politica dei cattedrali magari pagate dall'Unione Europea magari pagate dall'Unione Europea con il giro fiscale di qualcun altro certo perché è diverso la politica delle cattedrali dalla politica di infrastrutture perché costruiamo stabilimenti industriali la politica delle infrastrutture è quella facciamo la banda larga esatto cioè l'equivalente facciamo la linea ad alta velocità che è molto dubbia ma insomma comunque facciamo la banda larga è una cosa che sicuramente è il equivalente di fare l'irrigazione nel 1950 sostanzialmente che è uno qui è to sommato poi naturalmente la storia agricola del sud cioè il destino del sud è finito nel senso che i contadini invece di rimanere nelle piccole proprietà si sono trasferiti al nord a fare gli operati tutta ma questa è un'altra storia sostanzialmente ok comunque oggi siamo arrivati poi magari un'altra volta facciamo gli anni 90 che so poco ma Costantino sa tutto che c'era fondamentalmente era importante fare proprio l'inquadramento storico e questo questo percorso no per intanto per far capire a chi ci segue che non è una storia nuova quella che stiamo per rivivere l'abbiamo già vissuta chi ha i capelli bianchi se ne è anche accorto io mentre tu parlavi mi sono venute in mente decine di esempi di cattedrali o di aree industriali costruite nel nulla soltanto perché arrivavano i finanziamenti cioè penso ai finanziamenti della 488 penso ai finanziamenti del terremoto eccetera quella poi è un'altra storia ancora comunque sì la sostanza è questa ci sono stati lunghi anni lunghi decenni di legislazione speciale finanziamenti i risultati non sono sempre brillanti sicuramente i risultati ci sono stati e mi premeva soprattutto smontare alcune delle tesi più magari manifestate anche in modo violento sui social da parte appunto di questa di questo regurgito neoborbonico ci torneremo parleremo un po' delle degli ultimi decenni così diamo un quadro ulteriormente completo di questa cosa e poi naturalmente durante le varie le varie trasmissioni che faremo affronteremo in modo critico quello che è l'attuale quello che si sta facendo Giovanni ti ringrazio come al solito è stata lezione perché così mi piace chiamarla bellissima di storia economica mettete like fate girare questa è una serie che piace molto giustamente anzi non so se hai letto nei commenti c'è qualcuno che dice perfetto grazie al professor Federico ho già studiato per il mio esame di storia economica che devo dare fra un mese mandatemi fatemi sapere e pagatemi un caffè va bene grazie a tutti ci sentiamo arrivederci alla prossima ciao a tutti